Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, oggi 15 febbraio per gli aretini, indubbiamente una data importante, si rinnova la devozione per la Madonna del Conforto, una devozione che ha stupito anche il Vescovo Metropolita di Milano che ha presieduto la solenne celebrazione in Duomo questa mattina alle 10.30. La Madonna del Conforto La devozione che c'è ad Arezzo mi ha molto colpito, ho ammirato molto la presenza, il modo di pregare. L'Arcivescovo Metropolita di Milano, Mario Del Pini, oggi ad Arezzo per presiedere le celebrazioni dedicate alla Madonna del Conforto, rimane particolarmente colpito dalla devozione degli aretini. Immagine Mariana che salvò Arezzo dal terremoto oggi viene ricordata appunto da un'intera comunità che ha affollato il Duomo. Da Lombardo posso dire anch'io, o mia bella Madunina, ti te Dominet Milan, va bene, però posso dire allora, prendendo spunto da questo, che la nostra Madonna del Conforto veglia su tutta la città e su tutta la nostra diocesi. E la partecipazione dei fedeli, della gente a questa festa è il segno che la gente lo sa, che se ne accorge che c'è lo sguardo di protezione, di bellezza di Maria per tutti noi e oggi ci affidiamo di nuovo a lei. La messa pontificale è stata concelebrata dal cardinale Gualtiero Bassetti, insieme a lui è anche il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo Metropolita di Firenze e i vescovi della Toscana. Un messaggio di unità, di grande sentimento, di passato e di futuro, la città si stringe sempre accanto alla sua Madonna del Conforto ed è un'identità religiosa ma anche laica. Presente anche Ernst Simoni, cardinale albanese della Diaconia di Santa Maria della Scala, definito da Papa Francesco martire vivente della dittatura in Albania. Rimasto per 18 anni ai lavori forzati due volte, condannato a morte dal regime comunista albanese prima che cadesse, Simoni ha lavorato nelle fogne di Scutari, oggi ha 96 anni e vive a Firenze. Quanto dolore c'è però nel vedere ancora le guerre nel mondo? Dobbiamo pregare, pregare, pregare che gli uomini si convertano e questo sangue innocente che si versa nel mondo sia la nostra protezione, sia il nostro perdono, che la Santissima Madonna del Cielo come sempre parteca il mondo, la fraternità umana e tutti gli uomini per avere la fraternanza, l'amore e il sorriso del Spirito e del cuore di tutti gli uomini. E le celebrazioni invece delle 18, sempre in Duomo, sono state presiedute dal Vescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro, Andrea Miglia Vacca, oggi ha detto nella sua omelia Omelia siamo qui in tanti, verranno a venerare e a pregare Maria e vogliamo portare qui non solo le preghiere nostre ma quelle di tutto il mondo e soprattutto la preghiera di chi più soffre, di chi invoca il dono, il dono della pace per tutta la terra e soprattutto per la martoriata ucraina e per la Palestina e Israele. E siamo alla cronaca, un incidente stradale si è verificato questa notte ad indicatore lungo la strada regionale 69, l'auto condotta da un 23enne è finita contro una cancellata di una casa sul posto, un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo che ha trasportato in codice giallo il pronto soccorso dell'ospedale San Donato, il giovane poi risultato in stato di alterazione per i rilievi di legge, la polizia stradale. Vandali all'arena Eden sono, secondo le prime informazioni dei ragazzi giovanissimi, ovviamente è stata sporta denuncia. Abbiamo dovuto fare questa denuncia con grande dispiacere perché era necessaria per dire che non è che noi stiamo qui a farci prendere in giro, però con grande dispiacere perché comunque sono tutti ragazzini minorenni, alcuni molto piccoli. Di solito questi episodi succedono dalle 6 alle 9 di sera, quindi tu capisci che se dei ragazzini sono in giro alle 9 di sera durante la settimana, nei giorni feriali, ma anche il fine settimana, capisci che c'è una situazione particolare probabilmente in famiglia. Quindi è una denuncia non solo verso di loro ma verso delle situazioni che purtroppo in questa zona cominciano a vedersi un po' troppo spesso. È stata l'arena Eden di Arezzo l'ultimo bersaglio dei vandali con ogni probabilità minorenni. La struttura, che si trova in via Guadagnoli, in pieno centro città, ospita l'omonimo cinema e un ristorante di cucina giapponese. Il complesso è dotato di un'area comune dove sorgono una piscina e un altro edificio in passato utilizzato come un bar. In queste immagini delle telecamere di sorveglianza si vedono i vandali gettare un oggetto proprio nello specchio d'acqua di fronte al ristorante. Allora per fortuna al momento non ci sono grossi danni se non questa sparizione del robottino da piscina ma diciamo che non possiamo certo collegarlo con sicurezza a questo gruppo di persone. Quindi diciamo che in realtà si tratta di dispetti per il momento, sono dispettucci un po' stupidi. Ecco, comunque possiamo definirlo un atto vandalico insomma. Sì, sono partiti con piccole cose, con schizzare acqua, fare dei piccoli dispetti a chi poi comunque viene puntualmente a frequentare la zona, il ristorante o il cinema. E poi siamo arrivati anche al lancio di piccole pietre, di bastoni verso la pagoda e anche di lancio di arredi del ristorante dentro la piscina. Il disagio giovanile secondo voi è davvero tangibile insomma? Sì, sì, giovanile e non solo giovanile insomma la zona qui intorno all'Eden ha tutta una serie di situazioni complicate che andrebbero affrontate, non so come, ma insomma via via negli anni la situazione nei giardini qui intorno, nella zona dell'Eden è peggiorata notevolmente. Avevano truffato un'anziana portandole via a 3.500 euro tra denaro e preziosi ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine. La truffa messa in atto era quella del finto carabiniere, vittima una donna residente a Roma. Dopo aver messo a segno la truffa i due si erano allontanati verso nord, poi raggiunta Bologna le strade si erano divise. Il primo aveva preso un treno dell'alta velocità verso Napoli dalla stazione appunto di Bologna, l'altro invece era tornato a sud con l'auto. Mentre il primo è stato fermato appunto nel convoglio, il secondo invece dalla polizia stradale di Arezzo. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna. Ieri vi abbiamo dato notizia di questa storia davvero incredibile, unica in Italia. Bruno, un 57enne aretino da 45 anni in dialisi. Una storia davvero molto bella che oggi vi raccontiamo proprio grazie alla sua testimonianza. Non mi ricordo bene, era una mattina che non mi aspettavo e mi ricordo che l'infermiere che è venuto a attaccarmi non ce la faceva perché aveva 11 anni. E quindi poi è venuto il dottore e da lì è cominciata questa avventura. Era l'8 febbraio del 1979 quando Bruno, ancora bambino, varcò per la prima volta il reparto di emodialisi dell'ospedale Sandonato di Arezzo. Oggi di anni ne ha 57 e l'8 febbraio scorso ha festeggiato i suoi 45 anni di dialisi spengendo le candeline per il suo compleanno terapeutico. Insieme a loro sto vincendo questa battaglia che il bene e il male mi sta permettendo di vivere una vita più che accettabile, nonostante tante rinunce. E quindi oggi questa cosa mi fa più che contento. Il suo è l'unico caso in Italia di paziente con un trascorso da emodializzato di ben 45 anni. Ha vissuto la storia recente passata dell'emodialisi entrando quando ancora era agli albori sino ai nostri giorni. Io ero studente di medicina e lui era un ragazzino. Non si poteva certamente pensare che dopo 45 anni ci saremmo ritrovati ancora a festeggiare la sua e la nostra salute. Naturalmente quando si fa il trattamento dialitico l'obiettivo anche del trattamento dialitico non è solo di curare ma anche di cercare di poter dare al paziente una qualità di vita che possa essere adeguata. Naturalmente le aspettative quando comincia a fare il trattamento dialitico sono tante. In Bruno si sono realizzate nella maniera più piena forse. La vita di Bruno è scandita da tre sedute alla settimana che gli hanno però regalato la vita. Perché non è semplice riguardarsi nel mangiare, nel bere. Tre volte alla settimana essere qui fissi nonostante qualsiasi cosa. Non è come un lavoro che oggi me la sento, non vado. Bisogna esserci ma... Però poi è vita. Perché la dialisi non è morte, la dialisi è vita. Un trattamento classico è di quattro ore ripetuto tre volte alla settimana. Quindi forse più che in famiglia si passa il tempo. E quindi abbiamo modo di vederli. Se uno ha la sfortuna di entrare presto, di vederli crescere, di vederli maturare, di condividere con loro momenti di difficoltà, momenti belli. Nell'intera asla toscana sud-est ogni giorno vengono effettuate 75 emodialisi. È una terapia nella quale si cerca di compensare l'assenza di funzione del rene. La diasia certamente non ha la capacità di svolgere tutte le funzioni del rene, però compensa in gran parte, buona parte di queste. Bruno ha imparato a convivere con questa terapia. Quindi non dico che sia normale, ma per lui venire tre volte alla settimana è una condizione relativamente normale. E questo forse è anche un po' tra virgolette un trucco per vivere la tua malattia. La grinta dove la trova? Ma dentro me stesso. Ha attaccato la vita. Questo credo che sia attaccato la vita. Perché se pensi che cominci a 11 anni fai i conti, se non ce la metti tutta, non ti attacchi alla vita, arrivare a 57, la dialisi, ce ne vuole. Il comune di Civitella in Valdichiana, in notizia di questi giorni, ospiterà il prossimo 25 di aprile il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che verrà a rendere omaggio alle 244 vittime dell'ecidio di Civitella, Cornia e Bucine, del quale quest'anno ricorrono gli 80 anni. Ma sentiamo ai nostri microfoni il sindaco di Civitella e il prefetto di Arezzo, che appunto si stanno preparando ad accogliere di nuovo in terra aretina il presidente della Repubblica. Sindaco, questa bella notizia per Civitella, insomma un orgoglio poter ospitare il presidente della Repubblica per il 25 aprile. Sì, è un onore, un onore per il comune Civitella, per tutta la popolazione, andare a ospitare il presidente della Repubblica in quella che è una delle giornate più importanti d'Italia, il 25 aprile, il settantesimo anniversario della liberazione, una giornata simbolo di democrazia, simbolo di libertà e allo stesso tempo quest'anno andare a commemorare quello che è uno dei più effrati stragi della compagine in Italia, stragi nazifascista, la strage di Civitella, il 29 giugno, l'ottantesimo anniversario, in cui morirono 244 persone, la strage di Civitella, Cogne e San Pancrazio. Ecco, lei lo aveva invitato proprio per questo 29 giugno, quindi per la ricorrenza proprio degli 80 anni, poi ovviamente il presidente ha scelto il 25 aprile, data comunque importante per questo comune. Sì, il comune Civitella l'aveva invitato per l'ottantesimo anniversario, però penso che la scelta delle presidenze sia una scelta molto bella, in quanto il 25 aprile è veramente una giornata simbolo per tutta l'Italia. Ci sarà ovviamente insomma una Civitella blindata? Sì, metteremo in campo insieme al Quirinale, insieme al prefetto, insieme a tutte quelle che sono le istituzioni, cercheremo di prepararci al meglio per questa bellissima giornata di festa. Immagino che i suoi concittadini abbiano letto dai giornali, sentito insomma dalle tv e dai siti web, di questa notizia. Che tipo di sentore ha potuto acquisire in questi giorni? Ma c'è grande felicità non solo da parte dei concittadini della frazione Civitella, ma anche da parte di tutto il comune, ma penso anche di tutta la provincia, perché poi avere il presidente della Repubblica il 25 aprile penso che sia un onore e un vanto per tutti. Sì, per noi è una straordinaria opportunità, naturalmente è anche una grande considerazione che il presidente Mattarella ha avuto nei confronti appunto delle vittime dell'ecidio di Civitella, volendo appunto onorarle con la sua presenza in occasione del 25 aprile e anche in occasione dell'ottantesimo anniversario della strage. Per lei è una seconda prova della macchina organizzativa della prefettura dopo Camalfi? Sì, a breve distanza il presidente viene da noi per la seconda volta, quindi questo è motivo veramente di grande orgoglio ed è un segno di grandissima attenzione. Un investimento di quasi 2 milioni di euro per il riassetto del reticolo idraulico minore sulla collina di Castelsecco. Un intervento atteso da molto tempo da parte degli abitanti, soprattutto del quartiere Giotto, che in passato e in più occasioni avevano subito degli allagamenti alle proprie abitazioni dovuti proprio all'influsso incontrollato delle acque meteoriche provenienti dalla collina di Castelsecco. I lavori da l'assessore alle grandi opere delle opere pubbliche del Comune di Arezzo, Sacchetti, sono stati aggiudicati. Consisteranno nella realizzazione di due nuovi canali di grotta che confluiranno dalla vasca Volano in grado di immagazzinare temporaneamente le acque piovane ricadenti appunto nel versante ovest della collina di Castelsecco che allo stato attuale afferiscono alla rete di drenaggio urbana. Sono 14 i mesi e il tempo previsto per la realizzazione di questi lavori. Venerdì prossimo, il primo di marzo, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni sarà ad Arezzo a Confindustria Toscana Sud, tema del vertice con gli industriali aretini, le infrastrutture da sempre al centro dell'interesse di Confindustria, soprattutto in una fase cruciale per il completamento del tratto aretino delle due mari e poi per la discussa scelta dell'ubicazione della stazione dell'alta velocità medio Etruria. L'impegno della nostra struttura, afferma Alessandro Tarquini, responsabile della delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana del Sud, nel chiedere appunto alle istituzioni il massimo impegno e anche nel dare risposte concrete alle necessità del territorio, è costante. Calano gli infortuni sui luoghi di lavoro ma crescono le malattie di origine professionale, a dirlo è il patronato Acli che appunto conferma l'andamento evidenziato dai dati dell'Inail nel 2023 relativo alle patologie contratte in ambito lavorativo e certifica una situazione complessa e contraddittoria dove spesso ad emergere è la mancanza di corretta informazione sui diritti del cittadino sui percorsi proprio per ottenere i giusti indennizi economici. Il numero di denunce di infortuni ha mostrato un calo significativo, meno 16,1% rispetto al 2022, mentre le denunce appunto per malattie professionali sono aumentate di quasi il 2%. Grande festa oggi al Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo per la presentazione di un'importante pubblicazione e poi per accogliere il nipote di Guglielmo Marconi. Il 2024 è un anno all'insegna della telecomunicazione per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, inventore della radio, i 100 anni dalla radiodiffusione in Italia e i 70 della televisione, capofila delle celebrazioni toscane, il MUMEC, il Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo. Abbiamo già un'apparizzatura funzionante pronta per farla vedere all'auditorio, abbiamo due televisori degli anni 50 che stanno funzionando molto positivamente con tutte le difficoltà che sono sulle tecnologie antiche che però abbiamo recuperato e che quindi queste celebrazioni rimarranno qua valide per tutto l'anno e quindi per le scuole, per i curiosi, per la città e per chi vorrà venire saranno sempre disponibili a essere visti. Protagonista dell'anno dedicato alla telecomunicazione sarà la mostra Il Mondo in Tesca, a testimonianza di quanto la tecnologia abbia ormai portato una costante e diffusa facilità di informazione sempre a portata di mano. Diciamo un richiamo a quello che era un progetto di mio padre nel 1987 che era proprio Il Mondo in Casa. Il Mondo in Casa era chiamato così perché la radio ha portato il mondo all'interno delle case. Oggi la comunicazione è cambiata, è cambiato il modo di comunicare, sono cambiati i mezzi per comunicare e oggi abbiamo tutti il mondo all'interno delle nostre tasche ovviamente con i cellulari. Ospite d'onore delle celebrazioni iniziate in occasione della giornata mondiale della radio la famiglia di Guglielmo Marconi, veri e propri testimoni di vita e ricordi del grande scienziato. Purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo perché sono nato molti decenni dopo la morte di nonno nel 1937 però ho avuto la fortuna di vivere in casa di mia nonna Maria Cristina Marconi, appunto vedova di Guglielmo Marconi che è morta a 94 anni, mi raccontava tutto della sua vita col marito e tutte le loro esperienze meravigliose, le avventure scientifiche, anche i contatti che avevano, le amicizie personali. Tra l'altro siamo in Toscana, vorrei ricordare l'amicizia di Marconi con la Toscana, con Giacomo Puccini si vedevano sempre a Torri del Lago, con Gabriele D'Annunzio, si vedevano a Viareggio Viareggio è la città dove si conobbero i miei nonni, mio nonno Guglielmo che incontrò la prima volta mia nonna Maria Cristina e poi si sposarono qualche anno dopo, quindi insomma è una bella occasione che ad Arezzo inizino questi 150 anni a Nascio di Marconi. Una serata dedicata alla grande danza con un parterre di davvero grandi stelle dai più prestigiosi teatri d'Europa dall'Opera di Parigi al Teatro San Carlo di Napoli fino al Royal Ballet di Londra e all'Opera di Roma. Si svolgerà sabato 17 febbraio al Teatro Petrarca di Arezzo con un programma che spazierà dal balletto romantico a quello contemporaneo. Siamo molto entusiasti di presentare il gala di danza, commenta il maestro Zanon dopo il successo dello scorso anno. Abbiamo deciso di organizzare anche in questa stagione uno spettacolo di altissimo livello. Una serata in preziosità dalla coreografia che Valentino Zucchetti ha ideato appositamente per l'evento che di fatto è una prima mondiale appunto si svolge proprio ad Arezzo. Si è spento in seguito ad una malattia. Il luogotenente in congedo Santi Bianchini ha dedicato la sua vita all'arma dei carabinieri fino al momento del pensionamento nel 2016. In precedenza aveva ricoperto ruoli di comandante della stazione di Subiano e Capolona, poi al nucleo comando di Arezzo e successivamente al nucleo informativo. Il funerale si terrà alle 15 di domani nella chiesa parrocchiale di Castiglion Fivocchi, dove abitava la Camera Ardente invece allestita nella cappella dell'ospedale di Arezzo. Lascia la moglie e due figlie, a loro e a tutti i suoi cari, ovviamente le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione. È tutto per questa sera, grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie a tutti.